Tantissimi tifosi in fila allo store ufficiale della Salernitana Le Cotoniere per foto ricordo ed autografi. Bambini ma non solo. La passione e l'entusiasmo per i calciatori Granata, Candreva e Pirola, hanno riguardato tutte le età. Appuntamento alle 17.30 ma c'era chi fin dalle 16 si era messo in fila e purtroppo qualcuno è rimasto deluso perché ad un certo punto chi organizzava l'evento ha detto stop. Bimmi in lacrime, genitori adirati, calciatori presi tra due fuochi e così in serata la Salernitana ha comunicato che ci sarà un altro appuntamento al ritorno della squadra della Turchia. Con lo stop del campionato di certo non si è affievolita la passione della tifosi di Granata e del resto c'era da aspettarselo. La prossima volta dunque si farà sicuramente meglio e vuole fare meglio anche la squadra che ha chiuso con due sconfitte un solo punto in tre partite, l'ultimo tratto del percorso iniziato ad agosto. 17 punti in classifica, sono un buon bottino ma forse qualche punto manca all'appello. Nella seconda e lunghissima parte di stagione bisognerà essere ancora più concreti. Bella, in fondo, la Salernitana è stata proprio quando ha avuto fame e gambe e dunque saranno queste le prerogative con cui si opererà sul mercato. Deme del Napoli, il grande obiettivo per il centrocampo. Ierevolino non vuole fare follia a gennaio ma il tedesco Exlipsia potrebbe meritare un'eccezione. Giurice è pronto a tornare ma serve capire chi gli farà posto. A destra c'è Zortea, mentre al centro della difesa Noiting e Ceccherini farà sprintano. Ci sono poi altri nomi sul taccuino, occasioni potenziali di mercato da cogliere ovomai si verificassero certe condizioni. Intanto la partenza per la Turchia si avvicina ed anche il primo test di questa anomala fase di rodaggio. Il 10 dicembre ci sarà la sfida con il Fenerbahce.